YouTube, eccoci tornati con un nuovo video ragazzi, oggi parliamo di quelli che sono i problemi di Runterra. Sembra un video un po' negativo, ma in realtà lo vorrei fare in maniera costruttiva, perché vorrei sapere soprattutto la vostra opinione, quello che è lo stato di Runterra al momento. So che il gioco è relativamente nuovo, e quindi comunque non voglio essere troppo aggressivo, non sto incolpando nessuno, sto semplicemente suggerendo quelli che secondo me sono i problemi principali che vanno risolti il prima possibile. Prima di tutto, il problema principale di cui mi sono accorto di recente, anche streamando Runterra, è stato che il gioco non ha quel senso di progresso infinito. Spesso lo troviamo nei giochi multiplayer online, quindi ci fa questo progresso infinito che è nel gioco, che nonostante tu giochi 8-10 ore al giorno, comunque ci sarà sempre qualcosa da fare. Penso che questo problema si andrà a risolvere con quelli che saranno gli eventi, che andranno ad essere introdotti il 22 mese, quindi in realtà è un problema che si trova al momento. Non so se andrà ad essere risolto appunto con questi eventi, però sono curioso perché, come ho visto, gli eventi saranno circoscritti a tutti i titoli Riot, quindi sarà una cosa interessante vedere anche questo rapporto tra i vari titoli, come si svilupperà la cosa degli eventi, cosa ti daranno, cosa non ti daranno, quali cose andrai ad aggiungere al gioco. Penso che questo sia un problema principale, sicuramente vedremo una soluzione grazie agli eventi, ma sono abbastanza sicuro che al momento tanta gente abbia smesso di giocare, o comunque giochi relativamente poco, semplicemente perché non ha appunto questo progresso in game. Vorrei fare un video un po' costruttivo, quindi ragazzi ogni cosa che dirò apprezzo se guardate anche la vostra, appunto, quello che pensate di questa cosa del progresso in game. Cosa servirebbe? Consigli? Secondo voi qual è il problema? Perché io la vedo molto da streamer e da content creator, da pro player, quindi è, diciamo, una visione mia. Io non ho mai giocato molto casual ai giochi, quindi non so la visione di un casual gamer, di cosa ha bisogno il gioco, cosa dovrebbero inserire, e comunque spero che questo video, insomma, arrivi pure ai piani alti e possano darci qualche delucidazione, oppure prendere spunto, appunto, da quelle che è l'idea pure dei giocatori. Il prossimo step è quello dei nerf. Ho notato di recente che il tempo che passa tra una patch di bilanciamento e l'altra è comunque di un mese e dalle mie esperienze precedenti è comunque un quantitativo di tempo onesto, però comunque ci siamo ritrovati a giocare sempre lo stesso meta, comunque con qualche mazzo, qualche variante piccola, però alla fine il succo del meta era sempre lo stesso. Penso che sia un problema, sicuramente tanti hanno trovato noioso il fatto di dover giocare sempre gli stessi mazzi, dover giocare sempre contro gli stessi mazzi, trovarsi sempre contro Heimerdinger, sempre contro Ezreal, trovare un mazzo che è molto frustrante, contro cui non si riesce mai a vincere, e quindi ritrovarsi appunto a dover giocare per mesi e mesi contro questo mazzo che odiate tanto. Poi ovviamente il gioco diventa meno divertente, meno coinvolgente. Attualmente ho visto dei miglioramenti nel team di bilanciamento, come ad esempio il buff che Browm ha ricevuto, quello è stato secondo me un chiaro segno, un'ottima direzione in cui sta andando il team di sviluppo. Sono contento che una carta da praticamente non giocata è diventata una delle carte migliori del gioco. Browm attualmente si gioca in parecchi mazzi, la trovo molto forte come carta, molto fastidiosa quando è in campo, quindi sicuramente sono contento di come si è andato a sviluppare appunto questo bilanciamento. Dall'altra parte però ci stanno cose come il bilanciamento di Heimerdinger, che non è stato trascurato per molto tempo, hanno considerato che non fosse un problema, il che è grave secondo me perché comunque Heimerdinger è stato in meta da molto, a moltissimo tempo e non è stato appunto aggiustato, fixato, insomma non hanno fatto niente al mazzo, mentre sono andati a toccare invece tutti i mazzi che andavano a contornare il meta attorno a Heimerdinger. Problema, problema, hanno già detto che fixeranno la cosa già nella prossima patch, quindi sono molto fiducioso, infatti faccio questo video un po' preventivamente, sperando di incitare la Riot a fare quello che già pianificano. Vedremo appunto come si andrà a sviluppare il bilanciamento. Quello che consiglio io è appunto di prendere molto in considerazione come hanno fatto appunto nelle ultime settimane e per quello che sarà la prossima patch, l'opinione di ProPlayers, perché hanno chiesto su Twitter che ne pensate questo bilanciamento, di quest'altro, qual è il problema del meta attuale e hanno raccolto feedback da ProPlayer che effettivamente, non sto dicendo che la loro opinione conti più degli altri, ma semplicemente un ProPlayer che spende 8 ore al giorno, ha molta esperienza nel gioco, sicuramente riesce a individuare qual è il problema principale quando si deve bilanciare una carta. Quindi sicuramente prendere in considerazione la loro opinione è fondamentale. O comunque dargli più risalto, ecco. Vedremo, vedremo i prossimi bilanciamenti, saranno il 22, quindi sono fiducioso. Hanno già dato qualche preview, quindi probabilmente ci saranno dei nerf a Emerdinger e vedremo come si andrà a sviluppare. Un altro problema grosso, secondo me, è l'assenza di features fondamentali. Ho notato che tantissima gente, la maggior parte della playerbase, è molto interessata al competitivo di Runeterra e tuttora manca la feature principale per il competitivo che è semplicemente lo Spectate. Lo Spectate è stato richiesto da tanti player, secondo me doveva essere proprio la priorità come features. È stato scavalcato da cose come Ordalia che attualmente è inutile ai fini del gioco. non ha dato longevità al gioco, non ha dato niente in più, hanno messo solamente due modalità che sono una normale e una singleton che semplicemente non servono a niente e i Labs. I Labs sono già un'iniziativa più interessante, però sono stati sviluppati appunto senza ricompense. Secondo me, non mettere ricompense in queste due modalità è stato un errore grosso. O comunque mettere un'icona come ricompensa, secondo me, è come non mettere ricompense. Non c'è un entry fee, quindi può essere provata quante volte si vuole, non c'è valore alle vittorie, alle sconfitte, quindi non si gioca con la voglia di dire ok, devo fare sette vittorie. Si gioca e si dice ok, se faccio sette vittorie figo, se no lo riprovo, tanto all'infinito posso giocare. Secondo me hanno dato, diciamo, troppo risalto a queste modalità che in realtà non erano così necessarie. Lo Spectate è importantissimo per quanto riguarda sia il competitivo del gioco, l'organizzazione di tornei, anche amatoriali. Non per forza la Riot sarà quella che dovrà organizzare i tornei, ma comunque gente come me, come altri streamer, vogliono organizzare le loro leghe personali e questo andrebbe ad aiutare anche Riot perché darebbe più risalto al gioco. Quindi sicuramente lo Spectate è la modalità necessaria per RunTerra, appunto per poter streamare un torneo, poter guardare gli altri giocatori giocare, commentare le partite e intrattenere appunto durante il torneo. Questo andrebbe ad aiutare molto RunTerra, darebbe molto risalto al gioco, una scena competitiva e attirerebbe sicuramente tanta gente. Sono dell'idea che questi, in generale, siano i problemi principali, quindi la longevità del gioco, un fattore per cui voglio giocare tottore, qualcosa di difficile da guadagnare, non avere subito tutta la collezione. Numero due, i bilanciamenti che sono la cosa più importante. A parte, sì, penso la longevità del gioco sia ovviamente più importante perché a prescindere se un gioco ha un motivo per cui devo giocare tante ore, sicuramente mi attirerà di più. I bilanciamenti sono importanti perché rendere il meta saturo fa creare problemi per quanto riguarda il divertimento del giocatore, sia medio che casual che pro player. E come ultimo appunto lo spectate che secondo me è, diciamo, quel contorno che va, andrà a definire il competitivo. Il competitivo di Runeterra si presta molto, non può essere trattato secondo me come un game per casual, o stile Hearthstone, perché il gioco semplicemente è più complesso, quindi si presta meno al random, alla partita così, tanto per. Sono d'accordo nel supportare anche quel tipo di formato, quindi con Labs, Ordali e tutte queste cose qua, però credo che il nucleo del gioco che sia importante sottolineare è appunto quello del competitivo. E niente, questi erano, diciamo, i punti principali, spero che sia tutto chiaro, vorrei sapere la vostra opinione ovviamente nei commenti, ragazzi, fatemi sapere, e spero che questo video arrivi, insomma, pure a qualche piano alto per capire, insomma, quali sono le cose che vogliono i players, soprattutto tra i commenti vorrei sapere che ne pensano gli altri. e niente, questa è il video, ragazzi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che ne pensate, se siete d'accordo, se siete in disaccordo, ovviamente tutte le opinioni sono ben accette, e se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi, e fatemi sapere cosa volete vedere, perché io non so più cosa fare, quindi alla prossima e bye bye.